Partiamo dalla partita che davvero è stato un peccato non vincere perché all'inizio quel gol fortunoso del Verona poi praticamente c'è stata solo una squadra in campo. Penso abbiamo giocato una grande partita come squadra e è veramente peccato perché è mancato il secondo gol. Tu hai ritrovato il gol, un gol bello, soprattutto una bellissima azione di squadra, ti è piaciuto? Sì, un gol come abbiamo studiato in allenamento, ho fatto un gol con l'esterno, ho tirato subito, sì un bel gol. Ne hai rischiati di fare altri, anche la punizione, diciamo che battere i calci di punizione ti piace? Sì, mi piace tanto, mi piace tirare. Tra l'altro un momento per te di buona fiducia, un'altra maglia da titolare, oggi come valuti in generale la tua prestazione? Penso ho giocato una buona partita, ho mancato solo la vittoria. Penso ho giocato una buona partita, sì.